Ciao, oggi parliamo del coronavirus, dei dati sul coronavirus, sperando che il peggio sia passato, ma del come e perché i dati, le informazioni che ci vengono fornite ogni giorno sono del tutto inadeguati, insufficienti per gestire questa pandemia in generale, per gestire una pandemia. Cos'hanno che non va i dati forniti ogni giorno? È che sono i dati aggregati, i dati sommati, i dati sommati a livello nazionale o per ciascuna regione. Che cosa manca invece? I dati disaggregati. Che cosa significa? Per ogni singola unità, per ogni singola persona che fa un test, che contrae il virus, che entra in un ospedale o in una terapia intensiva o per ogni persona che purtroppo muore. Naturalmente rispettando la privacy e senza mettere a disposizione del pubblico i dati personali di ciascuna malata e malato, il punto è che i dati anonimizzati di ogni singola persona e di ogni rapporto con lo Stato, con le strutture sanitarie, dovrebbero essere salvati e messi a disposizione in formato aperto e scaricabile del pubblico. Che significa che tutti i ricercatori, tutti gli scienziati potrebbero analizzare quei dati liberamente. Per farne cosa? Per studiare delle correlazioni, delle correlazioni tra la densità della popolazione e i contagi, delle correlazioni tra diverse zone o diversi fattori che possono essere infiniti fattori che si mettono in correlazione o con la pandemia o con le capacità del sistema sanitario di fare fronte alla pandemia. E invece i dati che noi tutti i giorni vediamo al telegiornale, pubblicati sui giornali, sono i dati sommati, aggregati. Quindi i dati che perdono per strada tutte quelle informazioni molto specifiche che si potrebbero ricavare per ogni unità sanitaria e per ogni persona e che potrebbero appunto essere analizzate dai ricercatori e dagli scienziati. Come mai? Perché non si mettono a disposizione questi dati? Questo francamente si continua a non capire. Già il Presidente del Consiglio precedente, Giuseppe Conte, aveva promesso, che avrebbe divulgato e condiviso i dati. Non è accaduto. C'è stato poi un accordo tra l'Istituto Superiore di Sanità, quindi il Governo, e l'Accademia dei Lincei anche qui per condividere questi dati. C'è stata una campagna di scienziati, di organizzazioni con l'hashtag dati bene comune. Niente da fare. Questo accordo con l'Accademia dei Lincei per la pubblicazione dei dati, dopo ormai cinque mesi, non ha sortito alcun effetto e continuano a non essere messi a disposizione i dati disaggregati a disposizione dei ricercatori e degli scienziati. Non è tutto, perché se questi sono dei dati che vengono salvati e che però non vengono messi a disposizione, poi ci sono anche dei dati che sarebbe fondamentale produrre, ma che si continua a non volere produrre. E sono i dati richiesti da due ex Presidenti dell'Istat, Aleva e Zuliani, che già ormai più di un anno fa hanno chiesto che si effettuino degli esami a campione per sapere quanti sono esattamente, o avere una stima, dei contagiati nel nostro Paese e per ogni zona territoriale. Perché questi dati in realtà adesso, in che senso non ce li abbiamo? Noi vediamo tutte le sere i dati dei nuovi contagiati, ma quelli sono soltanto i dati di coloro che hanno fatto l'esame, che hanno fatto il tampone, che hanno fatto il test. I cosiddetti asintomatici, quelli se non hanno un motivo specifico per fare il test, non faranno il test e quindi sfuggiranno al controllo, al monitoraggio. Allora qual è la soluzione? La soluzione proposta da Zuliani, da Aleva, ma anche dalla Società Italiana di Statistica e da tantissimi scienziati e ricercatori. Facciamo come si fa per i sondaggi elettorali. Prendiamo un campione rappresentativo della popolazione, di qualche migliaio di persone, e lo sottoponiamo frequentemente al test. In questo modo, essendo un campione casuale ma rappresentativo della popolazione, noi potremmo avere una stima di quanti sono effettivamente i contagiati. Anche questa richiesta è caduta completamente nel vuoto. Vi segnalo anche un'iniziativa politica che abbiamo fatto come Associazione Luca Coscioni, quella di mettere in piedi un sito che si chiama covidleaks.it e su quel sito raccogliamo le segnalazioni, garantendo l'anonimato, le segnalazioni su dati disaggregati, quindi raccolti, come dicevo prima, per singola unità, per singolo paziente, per singola unità sanitaria, che appunto vengono poi comunicati allo Stato, alle regioni, allo Stato centrale, ma che lo Stato somma, aggrega e quindi nasconde nella loro reale dinamica e approfondimento dato per dato. Ecco, su covidleaks.it ciascuno può, in particolare persone che lavorano in una ASL, in una regione o in quegli uffici pubblici che hanno a disposizione questi dati, che non vengono pubblicati, li può mandare all'Associazione Luca Coscioni attraverso covidleaks.it e poi noi quegli dati li analizzeremo e li pubblicheremo. A che cosa serve questo? Intanto è già servito a fare vedere il tipo di dati e di informazioni che non vengono messe a disposizione degli scienziati. Ad esempio, sulle prime decine di migliaia di persone decedute in Lombardia, di quelle persone si conoscerebbe potenzialmente moltissimo, anzi, esistono quelle tabelle, perché ce le hanno mandate attraverso covidleaks.it, che dicono l'età della persona, il comune di residenza, la comorbibilità, quindi le altre malattie alle quali era eventualmente affetto. Ecco, tutte queste informazioni esistono, ovviamente esistono in Lombardia, ma esistono in qualsiasi altra regione, potrebbero essere preziose per analizzare la correlazione tra i decessi e altri fattori demografici della popolazione o anche della qualità dei servizi sanitari, e invece quei dati vengono nascosti. Ecco, attraverso covidleaks.it abbiamo dimostrato alcuni dei dati che vengono sottratti alla possibilità di analisi e di ricerca degli scienziati italiani. Dicevo, noi speriamo che il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle, ma è una questione di principio che riguarda ovviamente quello che resta da fare per combattere questa pandemia. In generale però, tutto il sistema sanitario e in generale tutti i dati della pubblica amministrazione, prodotti dalla pubblica amministrazione, perché quei dati, come cittadini, ci appartengono. Quando non vi siano particolari motivi di riservatezza o di sicurezza nazionale, qui i dati sono nostri, sono dei cittadini, e quindi devono essere messi a disposizione, nel rispetto naturalmente di qualsiasi normativa sulla privacy e sulla sicurezza stessa dei dati, messi a disposizione del pubblico e in particolare di quei ricercatori che possono usare i dati per migliorare la qualità dei servizi pubblici. Non c'è bisogno che sia qualcosa di così grave e urgente. Certo, in quel caso è ancora più importante come una pandemia, può essere qualsiasi servizio pubblico collegato all'attività del governo, dello Stato, a qualsiasi livello, le cui informazioni sono un tesoro prezioso per tutti i cittadini, per tutti i ricercatori. Quindi dati bene comune. Quando a volte ci si chiede se con questa pandemia riusciremo a uscirne migliori o avere imparato delle lezioni, una lezione che certamente ancora non è stata imparata in Italia è l'importanza di avere e di mettere a disposizione dati in formato aperto, liberamente scaricabile, disaggregati per migliorare la qualità di governo e dell'amministrazione pubblica nel nostro Paese. Grazie.